Abbiamo pensato io e il contabile della Riva del Tube e Lopinetto di fare la canzone che era in programma Non vogliamo una canzone di Follettina La notizia in teoria è vera E' successo tutto sto casino qua Io me ne tiro fuori La canzone non si farà più Ciao scappati da casa io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome Benvenuti in questo nuovo video dedicato a Follettina Bambolina La regina di Youtube Follettina Piccolina Scusate Follettina Creation farà una nuova canzone Sarà vero? Sarà falso? O sarà che non ce ne frega un c***o? Prima di iniziare però come sempre Devo bere prima di iniziare Prima di iniziare però come sempre vi ricordo se ancora non l'avete fatto di iscrivervi al mio canale Qui sotto trovate un tastino con scritto iscriviti e di fianco c'è anche una campanellina Cliccate anche quella per attivare tutte, dico tutte, le notifiche relative ai video che pubblico tutti i giorni sul mio canale Così da rimanere sempre aggiornati sul gossip, sul trash e pure su Follettina Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram dove mi trovate come Fabrizio Valerio Ah e ricorda, sì proprio tu che stai guardando questo video Dov'è che devi restare? A casa mia, a casa mia, a casa mia Ragazzi che bello, dopo giorni, mesi, anni torniamo finalmente a parlare di uno di quei personaggi che io mi porterò sempre nel cuore Lei è un personaggio super trash che purtroppo nel nostro cuore amanti del trash ha lasciato veramente un vuoto incolmabile Perché stiamo parlando di lei, l'unica regina inimitabile di YouTube Italia E cioè Follettina Creation E proprio qualche settimana fa in realtà vi parlavo di Follettina e di un suo possibile, chi lo sa, ritorno Quando in realtà in quel video c'era semplicemente un video addio di saluti per i suoi fan Che non aveva fatto, perché come ben sappiamo Follettina ormai è da qualche mese Sì ormai credo che sia da gennaio più o meno, sì gennaio Ha deciso di basta, farla finita con tutti i social, non ne vuole più sapere Si è rintanata in casa sua in quarantena anche da tutti i social E questo video saluti che aveva fatto finale ha fatto, non lo so come dire, ha scoperchiato un vaso di Pandora Perché in realtà, cioè la pubblicazione di questo video ragazzi, ha fatto impazzire chiunque Tant'è infatti che sono successe un sacco di cose, gente che ha litigato, la diva del tubo che ha fatto un exploit su Instagram E se ve lo siete persi, tutto questo bellissimo trash, ve lo lascio qui sopra nella i di informazioni Detto ciò, oggi parliamo di un nuovo ennesimo possibile ritorno di Follettina Sulle grandissime scene di YouTube Italia Questo perché? Perché in questi ultimi giorni, diciamo che è andata in giro Questa voce di una possibile nuova canzone su YouTube da parte di Follettina E ragazzi, obiettivamente, visto il grandissimo successo della prima, primissima canzone di Follettina La regina di YouTube, ovviamente, tutti noi amanti del trash aspettavamo quantomeno una seconda, terza, quarta, diciottesima canzone di Folli Ebbene ragazzi, siccome si parla sempre di Follettina e si parla sempre di trash Ovviamente, tutto questo, tutta questa seconda canzone ha fatto molto discutere Ma soprattutto, diciamo che ha dato il via, ecco, nuovamente ad ulteriori liti super trash Ma andiamo con ordine Tutto parte da un video selfie di Follettina che viene improvvisamente in anteprima mandato a chiunque praticamente A tantissime pagine di gossip, a tantissime pagine trash Da parte di chi? Di una persona che lavorava, come dire, tra virgolette, dietro le quinte Perché parliamo di Lupi Negvi Che è un canale YouTube che io in realtà non ho mai capito bene cosa facciano Però so di per certo che fanno canzoni, fanno le basi, mixano le varie cose, bla 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 Ah, ci tengo a precisare che è Lupi Negvi con la V, non altre cose Non ho detto la N-word che qualche stupido ancora nel 2020 usa come insulto No ragazzi Anche perché sinceramente non fa parte del mio dizionario Detto questo, ci tenevo a precisarlo perché è Lupi Negvi Detto questo, cosa succede? Questo video selfie che in realtà doveva rimanere tra le persone che lavoravano a questa seconda canzone E cioè Andrea il Contabile, Follettina, La Diva del Tubo e poi questi Lupi Negvi Ecco, Fabio, credo si chiami, la persona che sta a capo di questo canale YouTube che si chiama così Ha deciso improvvisamente di mandare questo video shock esclusivo a chiunque E così in tempo zero il fatto che ci fosse una seconda canzone in progetto di Follettina Praticamente l'hanno iniziato a sapere tutti quanti Poi si sa ragazzi Invii questa cosa a Webbo Ma ragazzi Webbo che come me sa sempre tutto Ovviamente ha iniziato a diffondere il verbo Giustamente Hanno fatto il loro lavoro, hanno ricevuto Una notizia shock perché Follettina che fa una seconda canzone È da mettere in prima pagina pure secondo me sul Corriere della Sera E giustamente Webbo che è la bibbia del trash La bibbia di tutte le web star Giustamente ha ricondiviso questa cosa E ovviamente come si dice a ruota libera Tutte le altre varie pagine trash eccetera eccetera Hanno detto sì ragazzi si farà una seconda canzone di Follettina E finalmente finito tutto questo bellissimo discorso Vediamo insieme questo video selfie Che doveva appunto rimanere tra quei pochi che facevano la canzone Per poi essere ricondiviso Credo adesso non so bene da chi Però ufficialmente da uno di loro E così questo è il video selfie in cui Follettina ci regala una gioia in questa quarantena Dicendo appunto che sì Si farà una seconda canzone Ciao a tutti allora come tutti voi sapete Io mi sono ritirata dai social Però in questo periodo di quarantena Che stiamo vivendo Abbiamo pensato io e il contabile La diva del tubo e lupi nerdovi Di fare lo stesso La canzone Che era in programma Che non si è più fatta In modo da poter alietare un po' le vostre giornate Farvi sorridere un po' E verrà pubblicata Nel canale di lupi nerdovi Ne saprete di più Tra un po' diciamo ecco Più avanti Quindi che dire io vi mando un bacio E vi aspetto a tutti nel canale di lupi nerdovi Ciao Ecco la pubblicazione di questo video selfie Che doveva rimanere un'anteprima Un annuncio shock Che avrebbero dato i diretti interessati Della canzone Ha fatto un po' discutere Perché appunto gli accordi Da quanto ho capito Da quanto penso di ipotizzare Erano altri Cioè questo video doveva essere appunto Come dire Un'anteprima Utilizzata da loro Che lavoravano questa iniziativa Questa canzone di Follettina E non doveva essere invece un video Buttato così Lì In pasto a tutte le pagine di gossip O di trash E a commentare questa scelta E azione avventata Da parte di Fabio Dei lupi negvi E proprio un'altra persona Che lavorava Alla canzone di Follettina E parliamo proprio Del suo amico Andrea il contabile Che subito Di fronte a questa cosa A questo video selfie Di Follettina Che ha iniziato a girare Ovunque sul web Ha voluto rispondere Tramite delle stories Riferendosi proprio A lupi negvi Che insomma Perché ha fatto tutto questo Si è trovato taggato In delle storie Dove c'è un video Di Maria Grazia Che dice Dell'uscita della canzone Allora La notizia In teoria È vera Ma non erano questi Gli accordi Gli accordi Cioè già Comunque si eravano messi D'accordo tutti quanti Io ho già Gli ispezioni di Maria Grazia Perché il video Avrei dovuto Editarlo io Però la notizia Sarebbe dovuta uscire In un video Del Un video Della diva del tubo Su YouTube E invece Mi sono svegliato Mi sono trovato 800 miliardi di tag Che mi vedo un video Di Maria Grazia Che dice Della canzone Che le è stato Poi chiesto di fare Del quale Io non sapevo nulla Io me ne tirò fuori Cioè io non ci sarò In quel video Me ne tirò fuori Perché io sono Una persona Corretta E troppo precisa Anche forse Sicuramente E gli accordi E gli accordi Non erano questi Non doveva uscire Così la notizia Che è stato fatto Sto video E' stato che Sama ragazza E' stato inviato In privata Le pagine trash Senza che Ne io Ne la diva Sapessimo nulla Non so cosa ne pensa La diva di questa cosa Perché non ha ancora risposto In ogni caso Io me ne tiro fuori Non parteciperò al video Non eriterò il video Non farò nulla Perché a me dispiace Ma non Non mi piace Quando si fanno le cose Così Per conto proprio Quando c'erano degli accordi Avremmo dovuto pubblicarlo Su Instagram Io e San Fabio Dopo Dopo l'uscita Del video della diva Però qua Sta uscita In tutt'altre pagine Io me ne tiro fuori Ma la grazia lo sa E Tutto questo punto di vista Ce la posso fare Con me è tranquilla Anche io so tranquillo con lei Come so tranquillo con tutti gli altri Di tutta risposta Ragazzi Preparatevi Allacciatevi le cinture Perché avvoliamo Verso il trash assoluto E soprattutto Il no sense Perché io non ho ben capito Quindi magari Se voi avete capito qualcosa Fatemelo sapere Di fronte A questa risposta Di Andrea il contabile Arriva la replica Ufficiale Da parte di Lupi Negvi Che pubblica Delle stories Boh Che io veramente Guardate Ciao cari amici Tere spettatori E' successo Tutto sto casino qua Che si fa la canzone No non si fa la canzone Si si fa la canzone No non si fa Adesso siamo nella fase No non si fa la canzone Non escludo che poi ci sia la fase Si si fa la canzone E' che E' che Io pensavo di fare Cosa bellina Cosa carina No? E dire A tutti i miei amici Ecco avete visto Quanto da La pubblicità Eccetera eccetera Perché poi c'era Follettino Che diceva Si no Si no Abbiamo già tutte le scene Abbiamo la canzone Allora facciamoci sentire Popolo italiano Vogliamo una canzone Di Follettina Adesso ci sta il contabile Che è incazzato con me E la diva di conseguenza E poi Follettino dice No se litigate Io non faccio più niente Perché ecco Che lei vuole Un pace E armonia No? E quindi io Sto al telefono Ci ho parlato Il telefono Con il contabile La diva Mi ha mandato A fare E vabbè Follettino ha detto Vabbè E la diva Poi ha detto Si però C'è il contabile Torna E Allora Dopo ci sono anch'io No? E poi Follettino ha detto Si dai Se tornate tutti Lo facciamo E allora facciamo Sta canzone Insomma E che Sempre E si arrabbia Tantissimo Spessamente Ma non è cattivo E proprio che C'è un po' Carattere che lui Ah Mi viene Se l'arrabbiato E lui se ne va E poi Dopo il giorno dopo Però di solito torna Quindi probabilmente Boh Sinceramente Io nella mia testa Quando guardavo Queste stories Di Lupi Negvi Sono rimasto Abbastanza Boh Sotto shock Ma perché non Non capisco Molto bene Tutto quanto E mi sembra Anche un po' Molto Non studiata Come cosa Perché non voglio Pensare che la gente Faccia sempre Ste cose Per finire In qualche articolo In qualche video Come il mio Ad esempio Però mi sembra La follia Cioè mi sembra Un flusso di coscienza Quello che ha detto Continuo Che non porta a nulla Boh L'unica cosa Che mi sento di dire È che forse La scelta di mandare Questo video Che doveva essere Un'anteprima A tutte le pagine Non è stata proprio Un'idea azzeccatissima E infatti pare proprio Che la canzone Non si farà più E a dire la sua In tutta questa In tutto questo Caos generale È proprio lei La diretta interessata E cioè Follettina creation Che tramite il suo Vecchio profilo Che è quello In realtà adesso Del contabile Ha deciso di dire la sua Pubblicando Alcune stories E ha parlato anche Di autorizzare O non autorizzare A utilizzare Guardate perché Folli Ti amo Ciao a tutti Allora Volevo annunciare Che per incomprensioni Che ci sono state La canzone Non si farà più Mi dispiace Per chi ci sperava Ma Purtroppo È impossibile farla Magari poi Chi di dovere Vi spiegherà Nei suoi social Meglio Un bacione Allora Volevo anche dire Che io non autorizzo Nessuno E dico nessuno A pubblicare Gli spezzoni Di video Della canzone Che hanno Non autorizzo Nessuno Ragazzi E dico Nessuno Ciao Una follettina Come non l'avevamo Mai vista Ma secondo me Ha ragione Perché se questo progetto Si doveva fare Poi non si fa più Per determinate Incomprensioni Del team di lavoro Giustamente Adesso Nessuno Dovrà utilizzare La sua immagine E le cose che ha fatto Per quanto riguarda Questa canzone Se ci sono degli accordi Da rispettare E poi non si rispettano Come in tutte le situazioni Ci sono delle conseguenze E la conseguenza In questo caso È che la canzone Non si farà E ve lo dico Con molto dispiacere Perché io sono il primo Che ci avrebbe dovuto Allietare questa quarantena Questa estate Io già Immaginavo Il tormentone estivo Di Follettina Cioè io ero già lì A cantarlo Non al mare Perché non si può andare al mare Però che ne so Mi mettevo sul balcone A guardare il canale Che c'è vicino a casa mia E mi sollazzavo un attimo Bellissimo Quindi purtroppo Questa che doveva essere Una bellissima notizia Per noi Amanti del trash Si è trasformata In un incubo totale Perché non si farà più La canzone di Follettina Io sono tristissimo Spero Ma non penso Che qualcuno Cambiera idea Che vorrete fare Questa canzone Di nuovo Ancora 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 Lo speriamo Tutti quanti Vediamo Se ci ascolta qualcuno Se non ci ascolteranno Ragazzi Ci mettiamo ancora in pace E basta Alla luce di tutto questo Adesso fatemi sapere Invece voi Cosa ne pensate Qui sotto con un commento Se insomma Volevate oppure no Una canzone di Follettina Se sti cavoli Oppure insomma Fatemelo sapere Il video può finire qui Spero tanto Che vi sia piaciuto Se è così Lasciate un bel pollice in su Iscrivetevi Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto E qui sotto Trovate tutti i miei social Dove potete seguirmi Io e Mark Vi salutiamo E noi ci vediamo In un prossimo video Vero Mark vai Saluta Mark Vabbè ragazzi Anche oggi noi ci abbiamo provato Ciao